e dunque la mia sim non va più bene e allora alla fine ho deciso rimando la documentazione sento ho mandato il tutto ma adesso mi dicono cioè tramite un email di chiamare il 177 ma come faccio se non mi va la sim ciao allora mi dicono ciao benvenuto nella rivoluzione lia di timidi a rispondere da lunedì dalle 9 alle 18 ok deve fornirci ho dato il mio numero di cellulare che adesso oscurerò e l'utente buongiorno simone come possiamo aiutarti ho inoltato la documentazione perché ho la sim rotta ma mi dicono di chiamarvi al 177 ma come faccio senza sim e dopo un po mi rispondo abbiamo ricevuto non potevano la firma digitale simone è necessario rimandarlo e caricarlo in area personale con firma a mano inoltre devi ricaricarla sim per coprire nel costo della nuova pari a 9 99 perché mi sono girate le balle sono girate le scatole perché sopra ci sono 19 euro e dunque a questo punto io gli rispondo è una firma dunque una sigla nel senso che caspita la firma digitale cosa cambia è sempre firmata con il come si chiama con il con il tablet dunque ti firmo la vuoi proprio fatta a mano mi fai perdere tempo stampare firmare riscannerizzare non lo so siamo nel 2020 mi vuoi fare ancora e le dico fate scappare i clienti allora se non ci sono i soldi è perché avete tirato già tirato giù i 9 90 dopo sono andato a vedere siccome ero via sono andato poi a vedere perché non potevo sono andato a vedere e gli mando guarda che ci sono i 19 euro qua 19 06 io dico mi dici pure che mi mancano i soldi che non mi mancano i soldi me ne vado ciao iliad non ci si comporta così con un cliente sono uno dei primi adesso mi dici che non ci sono i soldi non vuoi la firma digitale ma vai a quel paese iliad cambio gestore scusa per per 9 90 non ti fitti ho mandato la carta di identità sono sulla mia come si chiama sono sulla mia mi sono dovuto loggare con la mia user nevi sono io e non accetti la firma digitale nel 2023 vuoi ancora amanuense sei ancora amanuense ciao iliad ciao 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 ciao